Siamo pronti, vostra maestra. Al mio 3, 2, 1... Oggi è il giorno del giubileo, è un giorno estenuante come lo è stato il giorno della sua incoronazione 25 anni fa. Ed è in giornate come questa che mi chiedo cosa ho ottenuto davvero durante la mia recenza. Il paese è in bancarotto, la nostra sicurezza nazionale è devastata. La volontà del popolo è cambiata. Sai vero che se quest'uomo vincesse oggi ci vorrebbero fuori? Il Regno Unito non sta attraversando un periodo di pace. Questa nazione era ancora grande quando sono ascesa al trono. Sotto la mia supervisione è andata in frantumi. Tu non puoi esitare. In frantumi solo se noi lo diciamo. Questa è la forza della monarchia. Nascondiamo le crepe. Sorella maggiore, sorella minore. Numero uno, numero due. E chi è il numero uno? Sei tu. E lei lo sa bene. Sì, lo credo anch'io. Allora permetti che ti offra due consigli. Non voltare mai le spalle al vero amore. E secondo me? Attento alla tua famiglia. Loro hanno buone intenzioni. Non è così. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere. Mi date ascolto in questa famiglia? Vengo visto per chi o come sono o no? La frustrazione e il risentimento che si possono provare quando fai una vita d'attore non protagonista. Abbiamo tutti fatto dei sacrifici e represso chi siamo. Non è una scelta. È un dovere. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!